Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita Dopo i primi esperimenti condotti a West Orange, insieme al suo assistente Dixon eventi che ho già raccontato in un precedente video di questa playlist dedicata alla storia dell'intrattenimento audio-video per tutto il 1890 il cinematografo di Edison viene perfezionato in modo da poter essere trasformato in un proiettore di immagini di qualità accettabile Nelle intenzioni originali dell'inventore, il cinematografo voleva essere un semplice complemento del fonografo che nella versione del 1890 era già un modello a cuffia, destinato alla fruizione più privata Aggiunto di un oculare, il fonografo sarebbe diventato il cinematografo L'ambizione di Edison, fissata in una sua dichiarazione alla stampa era quella di arrivare a proiettare un'intera opera lirica, citando le sue parole senza modificare per nulla l'originale e con artisti e musicisti morti da molto tempo Ci vorranno altri 85 anni per raggiungere questo obiettivo L'apparecchio messo in commercio da Edison nel 1894 Cinque anni dopo il primo brevetto, si chiama ora cinetoscopio Kinetoscope in lingua originale Ed è un robusto cassone contenente un meccanismo alimentato da una batteria di accumulatori attraverso il quale far muovere delle pulegge Nei primi modelli, tra le pulegge scorre una pellicola lunga 17 metri piegata a fisarmonica all'interno della cassa Attraverso questo sistema la pellicola può ripassare più volte proprio come accadeva con i più vecchi zootropi Una lampada illumina la pellicola ed una lente ingrandisce le minuscole immagini sulla pellicola stessa appena 3 cm per 4 per renderle intellegibili dal foro di visione Poiché il cinetoscopio continua a soffrire di un problema di scintillì Edison fissa la cadenza delle immagini a 46 al secondo molto vicina alle 50 indicate da Helmholtz per ingannare l'occhio nei suoi studi sui fenomeni di oscillazione elettrica studi che ovviamente Edison conosceva bene Per commercializzare la sua nuova invenzione Edison costituisce la Kinetoscope Company a cui riserva il monopolio della fabbricazione degli apparecchi e dei primi film a scopo dimostrativo Al fidato assistente Dixon viene dato l'incarico di dare vita ad un repertorio di queste brevi pellicole similmente a quanto fatto con i cilindri del fonografo È da questo incarico che nasce il primo teatro di posa del cinema soprannominato dalle maestranze di West Orange Black Mariah o Black Maria per la somiglianza con le carrozze carcerarie del tempo Realizzata per sfruttare al massimo la luce solare in un'epoca in cui l'uso di quella artificiale era pressoché nullo la Black Mariah era una costruzione di legno oblunga con la parte centrale del tetto rimovibile Tutta rivestita internamente ed esternamente di una lugubre carta catramata nera necessaria per dare grande rilievo ai movimenti La Black Mariah era posta su una piattaforma girevole per poter essere facilmente orientata secondo la posizione del sole Al suo interno, in una camera separata da quella in cui si svolgeva la scena era posto il cinetografo per le riprese La prima dozzina di girati uscì dalla Black Mariah già nel marzo del 1894 Questo piccolo insieme permise di aprire addirittura il primo Kinetoscope Parlor al 1155 di Broadway, New York Al suo interno funzionavano dieci apparecchi per altrettanti avventori La curiosità fu tale che presto sorsero altri Parlor tra Chicago e Parigi Con 25 centesimi, una bella cifra per l'epoca, si poteva godere di poco meno di mezzo minuto di visione Il solo Parlor di New York incassò in un anno oltre 16.000 dollari Il cinema allora era già un buon affare Un po' per i costi, un po' per la volontà di condividere con altri quell'emozione Passata la curiosità del primo anno, l'oculare iniziò a non bastare più al pubblico che reclamava la proiezione su un piano più ampio Pare che la risposta di Edison a queste sollecitazioni fosse stata Così finiremmo per uccidere la gallina dalle uova d'oro Attenzione però, non si trattava di scarso acume commerciale da parte di una delle più grandi menti dell'Ottocento Al contrario Business dei Parlor a parte In quei primi mesi il cinetoscopio restava per Edison un semplice apparecchio dimostrativo dei progressi raggiunti dalla proiezione animata L'inventore era ben conscio sia del fatto che il sincronismo col suono non fosse ancora ad uno stadio accettabile sia del fatto che le piccole immagini proiettate su un grande schermo avrebbero suscitato poco interesse per la scarsa qualità allontanando la curiosità del pubblico anche dai parlor Nel frattempo, mentre i cinetoscopi continuavano a diffondersi in tutto il mondo con essi venivano distribuite le prime produzioni su pellicola perforata Come dicevo prima, si trattava di semplici filmati che avevano l'intenzione di stimolare nel pubblico l'interesse per il movimento Non c'era ancora alcuna consapevolezza delle potenzialità di questa nuova forma d'arte Alla fine del 1894 il catalogo Edison contava 60 di questi girati principalmente soggetti circensi o di vaudeville quali quelli di animali sapienti, acrobati, danzatori e lottatori L'esperienza dei cilindri fonografici aveva dimostrato che le registrazioni si vendevano di più quando erano interpretate da artisti di fama L'idea fu dunque quella di girare interi incontri fra pugili famosi Con speciali cinetografi che arrivavano a 45 metri di pellicola si poté riprendere un intero round di un minuto Con una batteria di questi speciali cinetoscopi si poté proiettare ciascuna delle sei riprese dell'incontro al prezzo speciale di 10 cent a ripresa Era la nascita ufficiale del business delle prime serie appuntate Per la Black Mariah passarono anche molti artisti della compagnia del Wild West di Buffalo Bill indiani compresi anticipando così tutta la produzione western dei decenni successivi A fianco di questi piccoli spettacoli di varietà, diremmo oggi vanno citate le scene di genere nelle quali comparivano anche i primi abbozzi di scenografia a dare la sensazione di realtà I primi effetti speciali furono invece introdotti con due film Il primo, The Execution of Mary Queen of Scots del 1895 che oggi consideriamo sensazionale al tempo non riscosse alcun successo per via della confusionale riproduzione dei piccoli fotogrammi La scena riprendeva una parte di una pisse teatrale new yorkese rappresentando così il primo tentativo di fissare su pellicola quell'opera filmata sognata da Edison Il secondo girato, interpretato da una giovane ballerina di Broadway riprendeva un famoso spettacolo danzante nel quale dei fasci di luce colorata erano proiettati sui lunghi veli della ballerina la quale riusciva così ad evocare con la danza ora un fiore, ora una farfalla Per non perdere la magia di questa rappresentazione a West Orange ebbero l'idea di colorare a mano i veli fotogramma per fotogramma Si apriva così la lunga strada che avrebbe portato al colore A West Orange non mancarono neanche le prove di primo piano né quelle di prime brevi sceneggiature Le più note sono rispettivamente lo starnuto di Fred Ott e i fumatori di oppio L'uso più brillante del primo piano avvenne però fuori dalla Black Mariah in un secondo studio di New York dove sarà realizzato il film più famoso e discusso dell'epoca The May Irwin, John C. Rice Kiss I due attori di Broadway replicarono per il cinetoscopio una scena di successo della commedia La Vedova Jones sprigionando un fascino ingenuo quanto animalesco precursore dei più celebri baci del cinema Girato nel 1895 ebbe un discreto successo sul cinetoscopio ma quando venne proiettato l'anno successivo scoppiò uno scandalo che fece mettere in moto le prime censure della storia del cinema Ma questi ed altri accadimenti li racconteremo nel prossimo episodio di questa playlist dedicata alla prima storia dell'intrattenimento audio-video Se questo video vi è piaciuto potete lasciarmi un commento, un like o iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione dei nuovi capitoli di questa storia Per questo episodio è tutto Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita Grazie a tutti